Lo scorso febbraio Feder Consumatori Toscana aveva annunciato un'azione giudiziaria contro la società che aveva certificato i bilanci per gravi responsabilità, negligenze ed omissioni con l'obiettivo di ottenere altri rimborsi per i risparmiatori della vecchia banca Etruria. Dopo 25 assemblee di Feder Consumatori nei territori toscani si può dire che è stata superata quota 1.150 di adesione di titolari di dossier, obbligazioni o azioni all'iniziativa. Se si considera che molti dossier sono cointestati, sono circa 1.800 le persone coinvolte, di cui 730 retine, per un valore complessivo del danno subito di circa 50 milioni di euro. Entro la metà del mese di giugno lo studio legale Galgano per conto di Feder Consumatori Toscana procederà al deposito del ricorso per l'accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale delle imprese di Milano. Inoltre Feder Consumatori Toscana, dopo attenta valutazione, ha deciso di estendere la richiesta di accertamento tecnico preventivo anche verso Ubi Banca, ferma restando le prerogative di responsabilità della società di revisione. Il ragionamento di Feder Consumatori è questo. La nuova banca ha acquisito il capitale della nuova banca delle Etrughe del Lazio per poi successivamente dare corso a fusione mediante incorporazione della stessa. Pertanto Ubi è subentrata nelle obbligazioni già in capo alla nuova banca Etrughe, proseguendo nei rapporti già in essere. La giurisprudenza, secondo i legali di Feder Consumatori, nell'ottica di estendere l'iniziativa a un soggetto ulteriormente solvibile, ha portato alla decisione di procedere con il ricorso per accertamento tecnico preventivo anche nei confronti di Ubi Banca. Ma quali sono le gravi responsabilità, negligenze ed omissioni imputate da Feder Consumatori alla società che ha certificato i bilanci? Diversamente da quanto rappresentato nei bilanci certificati, Banca Popolare dell'Etrughe del Lazio si trovava in stato di insolvenza già dal 2010. Una tale falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della banca è stata possibile a causa dell'imperizia della vostra società, si legge nella lettera di diffida, che mai ha evidenziato le pure enormi carenze in tema di svalutazione dei crediti della banca e l'erroneità delle classificazioni dei crediti stessi.